Buonasera a tutti e a tutti e benvenute e benvenuti al Chiostroni Navinchi per questo appuntamento di Oltre alla Scena dedicato al Barone Rampante. Come vedete, Psicoanalisi sugli alberi è il titolo dell'incontro. Perché? Perché da molti anni ormai con il Centro Milanese di Psicoanalisi Cesare Musatti abbiamo avviato un percorso di collaborazione che è sfociato tra l'altro in un gruppo che si chiama Teatro Psicoanalisi in cui alcuni psicoanalisti del Centro si sono posti per obiettivo quello di far dialogare il teatro e la pratica dell'analisi attraverso la presa in consegna di uno spettacolo, uno spettacolo del piccolo teatro o in scena al piccolo teatro poi probabilmente si allargerà questo punto di osservazione, magari anche altri teatri non vogliamo monopolizzare l'attività del gruppo. Siamo partiti insieme, diciamo l'occasione del nostro incontro o reincontro perché come ricordava Ronnie Giaffè, poi vi presenterò tutti i relatori e le relatrici, quando appunto ci siamo conosciuti qualche anno fa Cesare Musatti e Giorgio Streler avevano avviato un dialogo molto fecondo che trovava appunto nel teatro un punto di incontro nella pratica dell'analisi la regia in fondo è una forma di interpretazione, abbiamo qui Riccardo Frati, regista del Barone Rampante è una forma di interpretazione, certo è un'interpretazione che si esercita su un testo e su personaggi di finzione che diventano però poi corpo e voce e azione attraverso gli attori, però la pratica interpretativa era il nesso che questi due grandi intellettuali avevano visto nella loro pratica professionale nella loro attività professionale. Il tema del nostro incontro è naturalmente il Barone Rampante di Calvino il Barone Rampante spettacolo per la regia di Riccardo, Riccardo Frati sarà qui con noi e interverrà anche in veste di lettore di frammenti del testo. Vi presento i nostri ospiti partiamo da Ivana Longo, naturalmente sono tutti e tre psicanalisti del centro Ivana Longo, Camilla Giraudi e Rogni Iaffè. Allora io darei avvio Riccardo al nostro pomeriggio con una breve lettura. Partiamo da un frammento che abbiamo scelto proprio legato all'avvio del romanzo ma all'avvio dello spettacolo ed è la scena della tavola. Grazie, buonasera a tutti e a tutti, grazie di essere qui con noi. Sì, è proprio il primissimo capitolo, questo è il romanzo, però se avete già visto lo spettacolo lo vedrete, soprattutto il primo capitolo è molto fedele nello spettacolo alle parole di Calvino e inizia così. Fu il 15 di giugno del 1767 che Cosimo Piovasco di Rondò, mio fratello, sedette per l'ultima volta in mezzo a noi. Ricordo come fosse oggi, eravamo nella sala da pranzo della nostra villa d'Ombrosa, le finestre inquadravano i folti rami del grande Elce del parco. Da pochi mesi, Cosimo avendo compiuto i dodici anni e io gli otto, eravamo stati ammessi allo stesso desco dei nostri genitori. Per noi era finita la cuccagna e rimpiangevamo i desinari nella nostra stanzetta da soli. Adesso, stando a tavola con la famiglia, prendevano corpo i rancori familiari, capitolo triste dell'infanzia. Cominciò una serie di sgridate, di ripicchi, di castighi, di impuntature, fino al giorno in cui Cosimo rifiutò le lumache e decise di separare la sua sorte dalla nostra. Di questo accumularsi di risentimenti familiari mi resi conto solo in seguito. Allora avevo otto anni, tutto mi pareva un gioco. La guerra di noi ragazzi contro i grandi era la solita di tutti i ragazzi. Non capivo che l'ostinazione che ci metteva mio fratello celava qualcosa di più profondo. Si capisce quindi come fosse la tavola, il luogo dove venivano alla luce tutti gli antagonismi, l'incompatibilità tra noi e anche tutte le nostre follie e ipocrisie. E come proprio a tavola si determinasse la ribellione di Cosimo. Per questo mi dirungo a raccontare tanto di tavole imbandite nella vita di mio fratello non ne troveremo più. Si può essere certi. Ecco, una tavola che non ritroveremo più nella vita di Cosimo perché come tutti sapete Cosimo sale sugli alberi e non scenderà mai più. Mi colpisce molto in questo brano che tu hai letto non solo l'istituirsi di una serie di relazioni conflittuali con la famiglia che poi chi ha visto lo spettacolo sa e chi ha letto il libro sa. Si sviluppa attraverso anche l'azione della sorella che qui non è raccontata, di un vero e proprio sadismo culinario attraverso la preparazione di questi piatti raccapircianti. Mi colpiscono due cose. Un avverbio, forse no, è un sostantivo perché è ostinazione, non ostinatamente, l'ostinazione della ribellione di Cosimo. E poi siamo in una dimensione di infanzia, sono ancora bambini, non sono ancora ragazzi, siamo all'inizio, è il trampolino proprio della ribellione di Cosimo. Uso queste parole e questi temi per portarmi verso di te Ivana perché so che hai preparato una breve relazione su proprio questo tema, cioè il tema del trauma, il tema dell'infanzia e diciamo del corpo di Cosimo. Ti passo il microfono perché non so se ne hai un altro. No, non ti sento, non ti fidare, non so, per esperienza. volevo provare. Mi sentite? Allora, il titolo di questa mia breve relazione è Il corpo in scena. Cosimo è un fantasma? La storia è nota. Cosimo, un ragazzo di 12 anni, rifiuta, disobbedendo al padre, di mangiare un piatto di lumache preparato dalla sorella Battista e decide di passare la sua vita sugli alberi. Passano gli anni e Cosimo continua a stare sugli alberi, studia, impara tante cose, ha contatti con moltissime persone e soprattutto si innamora. I genitori hanno accettato la sua diversità, molto è cambiato, ma perché prosegue la sua vita sugli alberi? Sembra, e lo è anche stato, un gesto emancipatorio, la ricerca di una propria identità che inevitabilmente può passare attraverso uno scontro generazionale. Il giovane, in genere, uscito dall'infanzia, ha il compito di modellare il suo mondo interno e decidere chi vuole essere. Cos'è il mondo interno? È l'insieme dei nostri vissuti, delle nostre esperienze, dei nostri tratti ereditati, dei nostri pensieri e tanto altro. La possibilità di transitare tra questi affetti, spesso in opposizione, con relativa facilità, ha come effetto la possibilità di avere un mondo interno più morbido e soprattutto più ricco. Viceversa, la presenza di barriere troppo severe, la difficoltà e la paura di accettare sentimenti dolorosi e aggressivi, ci libera della libertà di essere noi stessi. Sembra di trovarsi al checkpoint Charlie, in presenza di guardie armate che con aria truce ci minacciano se non siamo e facciamo esattamente come loro desiderano. A me è capitato davvero al checkpoint e mi hanno guardato malissimo. L'adolescenza ha anche il compito di riparare, riprendere e integrare aspetti del passato che non hanno trovato un'adeguata elaborazione e spesso proprio questa elaborazione passa attraverso una messa in scena. Proprio per questo motivo, cioè per gli aspetti della prima infanzia che non hanno ancora trovato la strada della parola, ma si affidano al corpo e proprio per questo motivo porterò degli esempi che parlano di bambini. A volte per gli adolescenti è necessaria anche una forte opposizione alla famiglia, come spesso è necessario mettere una distanza fisico-spaziale in attesa di una stabile distanza interna. Non mi soffermerò su questi aspetti ben rappresentati dal regista nello spettacolo e forse credo anche narrati dai colleghi. Vorrei invece sottolineare come per Cosimo, questo per durare ad oltranza nei suoi propositi, abbia secondo me un'altra valenza. Parlavo di messa in scena, che inevitabilmente coinvolge il corpo. Freud ebbe a scrivere che il corpo è il vero inconscio. Soprattutto nei bambini si vede chiaramente l'importanza del gesto e dell'azione. Pensiamo al gioco di un adulto che insegue il bambino. Quando il piccolo sta per essere acciuffato, si nota per una frazione di secondo uno sguardo di paura, un attimo di angoscia. E allora ci possiamo chiedere ma che gioco stiamo facendo? E' uno dei primi giochi emancipatori. Sentite? No? Poco. Scappa, adesso va meglio? Scappa, ma vuole che l'adulto lo segua, che non lo lascia andare via da solo. Ma nel contempo il bambino teme di essere imprigionato per sempre nell'abbraccio. In altre parole, teme di soggiacere al proprio desiderio di stare sempre attaccato ai genitori. E tutto questo passa attraverso la gestualità del corpo. Vi faccio un altro esempio che riguarda due bambini. Fratello e una sorella. Lucia ha tre anni, mentre fratello Teo ne ha sei. Sono bimbi molto diversi. Teo ha una grande sensibilità per le separazioni. Fin da piccolissimo lo gettavano nell'angoscia più nera. Nato dopo due aborti spontanei, forse incarnava il timore dei genitori di poterlo perdere. Lucia invece sembra passare indenne alle separazioni. Sembra la pubblicità della pila Duracell. Un attimo di crisi e si riparte come nuova. Siamo i primi giorni di scuola. Nuova per Teo e nuova per Lucia. Ovviamente Teo piange quando deve separarsi. Lucia fa finta di niente. Dopo pochi giorni Teo smette di piangere perché si è fatto degli amici. Ma Lucia ha bisogno di qualcuno che pianga al posto suo. E durante il tragitto in auto dice sorgnona al fratello. Guarda che manca poco alla scuola, ora devi iniziare a piangere. Per poter trovare la strada delle parole occorre la presenza di un altro, di una relazione significativa che aiuti il bambino a transitare dal gesto al pensiero. Il corpo spesso fa la parte di Teo. Significa e rappresenta qualcosa che Lucia non è ancora in grado di dire esplicitamente. Ritorniamo a Cosimo. Passano gli anni e lo vediamo sempre esposto a intemperie quasi sempre solo sul suo albero. Non ha nessuno che gli tiene la mano e non ha un posto caldo e accogliente. E soprattutto è sempre fuori. Detto con altre parole non ha un contenimento. E questo corpo sospeso sembra denunciare proprio questa mancanza. immaginiamo una notte buia e tempestosa. Il piccolo, così mi viene da chiamarlo, è lì solo e al freddo. Vede le luci all'interno delle case e le persone riunite. Tranne lui. Mi ricorda la fiaba della piccola fiammiferaia. Che nella notte di Natale sola, scalza, affamata al freddo. Vede persone felici che si scambiano regali. Ma lei è esclusa. Accende un fiammifero dopo l'altro per scaldarsi. Ma soprattutto, per avere una luce, quasi uno sguardo che la veda. Emblema e ricordo di una calda relazione che purtroppo ha perso. L'è morta la madre e poi anche la nonna. Anche la generalessa, la madre di Cosimo, sembra albergare simili sentimenti. Ma... Sitz, con l'attrezzatura da battaglia, rimaneva pur sempre madre lo stesso, col cuore stretto in gola. Però vivere questa apprensione in veste di generalessa la impediva di esserne straziata. Perché per unica difesa aveva quello stile militare ereditato dai von Kurtevitz. Poco prima la generalessa però ci racconta la sua storia e il motivo della sua difesa militare. Pizzi e ricami, con mappe geografiche, cuscini o drappi da razzo, punteggiati di spille e bandierine, segnando i piani di battaglia delle guerre di successione. Sono una von Kurtevitz, con Radine, figlia del generale Conrad von Kurtevitz, che vent'anni prima aveva occupato queste terre al comando delle truppe di Maria Teresa d'Austria. Orfana di madre, il generale mio padre mi portava con lui al campo. Il dolore di essere orfana e aver perso la madre da piccina viene affrontato con la grandiosità legata al padre, al fine di sfuggire gli aspetti di un buco depressivo troppo doloroso e pieno di solitudine. Purtroppo Conradine non ha potuto elaborare diversamente le mancanze e la lacerazione di una perdita così profonda. Anologamente per Cosimo le scelte e le parole hanno un andamento a momenti glorioso e spavaldo, ma il corpo in solitudine fra questi alberi mette in scena una grande incuria, una fragilità estrema, un essere fuori dai pensieri dei genitori che si colgono nelle seguenti considerazioni. Cosimo, a proposito dei genitori, dice In fondo erano tutti e due rimasti ai tempi della guerra di successione, lei con l'artiglieria nella testa e lui, mio padre, con gli alberi genealogici. E Biagio? Con tutto questo furono degli ottimi genitori, ma talmente distratti che noi due potremmo venire su quasi abbandonati a noi stessi. E questo essere stato prima, ma anche ora, fuori dal pensiero dei genitori, non essere stato da loro contenuto, non permette a Cosimo di allontanarsi da casa. Perché? La letteratura parla molto di fantasmi e tutti i fantasmi hanno queste caratteristiche in comune. Sono ectoplasmi, né dentro né fuori, derivano da un crimine effederato ed ingiusto, vogliono essere ascoltati e spariscono dopo che è stata loro resa giustizia. In questo senso Cosimo è un fantasma. Cosimo è un fantasma è una bella affermazione. Non so come la vedi tu, dal tuo punto di vista registico. Se quello che ha detto Ivana risuona in qualche tratto che tu hai recuperato o hai intuito o semplicemente ti sei mosso in un'altra direzione. Questo Cosimo in fondo è sempre... Devo dire che la tua regia ha degli elementi che stanno naturalmente nel testo di partenza di Cavino, ma che hanno molto ben identificato questo essere sempre comunque nel radar della famiglia, anche come hai usato lo spazio, la generalessa che guarda. Sì, assolutamente. Il racconto del romanzo è spalmato, diciamo così, anche prossemicamente, quindi la distanza tra i personaggi a sua volta racconta tantissimo. Ci sono stati due, tre parole nell'intervento, chiaramente le uso come scintille intorno al concetto espresso, che, come dire, sono molto canzanti rispetto al lavoro che abbiamo fatto nell'adattare il romanzo e rispetto al teatro, il linguaggio teatrale in generale. Il primo è chiaramente la distanza. Va da sé che, come dice Calvino stesso, la storia di Cosimo si fonda su una presa di distanza dalla famiglia e dalla realtà, con tutti i messaggi e le metafore che questo porta con sé. L'altro concetto molto vero, molto interessante, sul quale abbiamo lavorato tanto con le attrici e gli attori è il gioco. Proprio questa dimensione infantile, che forse così infantile non è, in cui il divertimento puro di calarsi all'interno di personaggi, tutti noi, credo, abbiamo avuto esperienza, in cui, come dire, io faccio una parte, tu fai un'altra parte, nel momento in cui non rispettiamo delle regole che, come dire, implicitamente conosciamo, ma che quasi non ci siamo detti, il gioco, la magia si interrompe. Ecco, questa dimensione del gioco l'abbiamo in qualche modo coltivata nel lavoro con gli attori, proprio perché loro stessi prendessero una distanza dai personaggi che interpretavano nel momento in cui non volevamo esprimere, che loro esprimessero da dentro un giudizio sui personaggi, in modo da lasciare allo spettatore, in qualche modo, la libertà di farsi un'idea su quel personaggio lì, semplifico, cioè se è un personaggio buono, cattivo, se fa del bene, se fa del male, cosa difficile in Calvino da definire perché, come abbiamo visto, come vedrete, i personaggi di Calvino nel Barone Rampante in realtà sono molto complessi e in questa sfumatura che citavamo anche adesso della Generalessa vediamo, come dire, l'aspetto esteriore di apparire e l'aspetto interiore dell'essere, no? E in questo i costumi, devo dire, rappresentano benissimo questa profondità, questo scarto psicologico, mi verrebbe da dire. Grazie, è molto interessante quello che dici perché la prossemica in questa rappresentazione nella tua regia e nel romanzo, come dicevi, ha un'importanza straordinaria e certamente la parola scritta consente di estendere un territorio, di creare un mondo, di creare mondi. Il teatro impone invece la sintesi e in uno spazio come questo una sintesi anche, come dire, particolarmente economica rispetto alla dimensione proprio concreta dello spazio scenico, però è una dimensione che consente di mettere in campo tutti i temi ma anche tutte le forme di relazioni e l'arco evolutivo del nostro cosimo che parte appunto poco più che bambino, preadolescente o adolescente, poi cresce in questa sua parabola fino a diventare un fantasma. Forse lo è sempre stato, o no? Non lo sappiamo, forse, come dicevamo prima nel nostro caffè pre-conferenza, pre-incontro, chissà, forse è solo una proiezione, un'invenzione, un racconto, visto che il tema del raccontare è così presente, della letteratura è così presente in questo romanzo, un racconto, un'invenzione del fratello Biagio. Però parliamo di arco evolutivo di un personaggio naturalmente, di un ragazzino che poi diventa uomo e parliamo però anche di temi identitari. Ovviamente i temi identitari sono temi che sempre fortemente ci interrogano, sia noi che si fa teatro, sia chi naturalmente si occupa di psicanalisi ed è anche il tema da cui tu sei partita nell'interpretazione del Barone Rampante, Camilla, vero? Sì, ho molto pensato all'identità perché è un romanzo, sembra un romanzo di formazione, parla di un ragazzino che appunto cresce, invecchia e questo tocca tantissimo quello che ne facciamo quotidianamente con gli adolescenti, abbiamo gli studi che sono sempre più pieni di ragazzi che hanno bisogno e la domanda è questa, è chi sono io? Innanzitutto, intanto che cos'è il concetto di identità? Perché a volte dall'etimologia, che sembra qualcosa che sia una riduzione a una cosa singola, quando noi parliamo di noi, diciamo io, e abbiamo un po' l'illusorietà di poter parlare di un'unica parte, mentre invece sappiamo che l'identità è una moltitudine, Walt Whitman diceva mi contraddico, contengo moltitudini e questo è come dovremmo essere abituati a vederci, quindi interessante nella chiacchiera che abbiamo fatto prima c'è stata anche l'ipotesi, no? Appunto chissà se Cosimo è un fantasma, se è una parte di Biagio, se Biagio e Cosimo sono parti di Calvino, perché un po' nelle mie riflessioni c'è stato anche un pensiero rispetto a quando è stato scritto Il barone rampante, perché Calvino lo scrive dopo un periodo in cui era un giovane adulto, era in difficoltà perché aveva scritto I sentieri dei nidi di ragno, che aveva avuto un grandissimo successo e c'era tantissima aspettativa, tutti gli intellettuali dell'epoca era molto apprezzato, si aspettavano il grande romanzo e lui era molto bloccato, forse perché appunto aveva paura di identificarsi una volta per tutte, perché poi lui era estremamente creativo e quindi nella mia mente rimbalzava un po' l'idea, chissà se Cosimo e Biagio potessero essere due parti sue, lui che era da una parte un illuminista convinto e quindi infatti sto pensando cosa penserebbe Calvino se si immaginasse che ci sono tre psicanalisti che stanno parlando di lui, io credo che non sarebbe per niente contento e anzi volevo citare che addirittura lui faceva dire a Flammeri, in Se una notte d'inverno un viaggiatore, gli faceva dire come scriverei bene se non ci fossi, se tra il foglio bianco e le storie che prendono forma non si mettesse di mezzo quello scomodo diaframma che è la mia persona e addirittura auspicava l'avvento di queste strane macchine, le macchine elettroniche che sono l'intelligenza artificiale, no? Che adesso produce dei contenuti senza l'identità di chi la scrive, insomma, o prendendo milioni di parti dalle milioni di identità di chi le scrive e quindi se Calvino dichiarava nei suoi discorsi una tensione, una ricerca, un'oggettività assoluta, illuminista che sentiamo nella tensione del testo, sentiamo in viaggio, poi forse queste tensioni vengono spente come la rivoluzione francese, il periodo in cui Calvino non a caso data il romanzo del barone rampante e di nuovo appunto sono temi di rivoluzione, rivoluzione che è la rivoluzione dell'adolescenza e quindi ecco torniamo all'identità per cui Calvino pensa la propria identità di adulto a cui approda poi con la produzione di questo romanzo e il barone si interroga sulla propria identità e decide quasi letteralmente non mangio la minestra, salto dalla finestra. Però lo fa in un modo creativo come lo fa Calvino per cui non salta dalla finestra che si uccide, salta dalla finestra salta sugli alberi, vi frego. E quindi è interessante, qui volevo rifarmi anche a me, le tue parole hanno fatto venire delle scintille, gioco e distanza sono due parole che usiamo anche noi psicanalisti, non solo gli attori nelle loro formazioni ma anche noi perché la distanza, la giusta distanza è qualcosa che noi cerchiamo con i nostri pazienti e qual è la giusta distanza? E' una domanda trabocchetto perché la giusta distanza è continuare a spostarsi e quindi a essere vicini, a essere lontani e in un continuo passaggio di vedere da un vertice osservativo, un altro vertice osservativo. E quello che parlavamo prima, poi Calvino non riesce a fare è ritorna, Cosimo non riesce a fare, è un bel lapsus, è quello di ritornare, per cui nella strappo adolescenziale c'è un eternamento ideale di questa spinta giovanile che però va ben oltre a quelle rotture che ci sono nei romanzi di formazione in cui rompo il mondo dei padri, rompo le statue degli antenati, io me ne infischio degli antenati, no? E così e però poi c'è un ritorno, c'è un recupero che è l'approdo all'età adulta e quindi quella che è l'età dell'ambivalenza, quella che è l'età dell'accettazione di un conflitto interno in cui si può ritrattare ritrattare, ma ritrattare avendo fatto proprio le istanze creative di essere stati lontani e quindi forse ci chiedevamo ma è matto Cosimo? Forse la batteria emerge quando soffre le pene d'amore e quindi ecco che mi riaggancio all'intervento di Vana che mi è piaciuto molto perché mette in luce il trauma che secondo me è la chiave psicoanalitica di Volta per leggere questo scritto, quest'opera perché c'è un trauma profondo che è proprio con l'oggetto primario questa madre che è glaciale e che non permette l'approdo quando arriva Viola che si incontrano, si amano lì, Cosimo è di fronte ha una possibilità di riuscire a non essere più spietatamente se stesso, spietatamente, di riuscire ad avere quella pietas per se stesso per cui riesce a mollare questa spinta rivoluzionaria fino a se stessa adolescenziale per entrare in una relazione e qui ecco che invece si è gelato qualcosa e lì poi si ammattisce, non riesce più ad entrare in relazione neanche con la comunità con cui era cresciuto e quindi ecco per l'identità volevo leggervi brevissimamente una cosa che secondo me rende molto bene l'idea di che cos'è l'identità. 1807, Hegel. Il boccio dispare nella fioritura e si potrebbe dire che quello viene confutato da questa. Similmente all'apparire del frutto il fiore viene dichiarato una falsa esistenza della pianta e il frutto subentra al posto del fiore come sua verità. Tali forme non solo si distinguono ma ciascuna di esse sono reciprocamente incompatibili ma in pari tempo la loro fluida natura ne fa momenti dell'unità organica nella quale esse non solo non si respingono ma sono anzi necessarie l'una non meno delle altre e questa uguale necessità costituisce ora la vita dell'intero. Volevo portare questo perché è importante appunto nel 1800 la fluidità e il cogliere che l'identità non è una cosa che si ferma mai. Anche noi oggi spesso pensiamo che sia un gioco che si chiude con l'adultità. Non è così. C'è chi parla di adultescenza per cui quando c'è l'adolescenza di quando siamo adulti e anche l'età anziano ormai si spostano continuamente i limiti per cui possiamo rimetterci in gioco e avere nuove identità in continuazione e quindi vediamo anche nei nostri studi tanti adolescenti anche grandi. Per dirla come un altro grande francese Arthur Rimbaud io un altro e questo ci riporta un po' al gioco del teatro e del fare finta che o dell'interpretazione di qualcun altro. In realtà chi ha visto lo spettacolo lo sa certamente la tua generalessa è distante ma non è fredda. Almeno da spettatrice mi sembra una lettura che colorisca di tanta umanità il personaggio della madre che certo parla di carte geografiche, invasioni, azioni militari come una appunto più giovane o poi meno giovane stratega ma che poi però tenga sempre questo figlio sotto uno sguardo affettuoso quando piove manda coperte ma anche nella versione dell'interpretazione di Viana Manea mi sembra avere una nota di calore sempre presente che viene da te cioè dalla tua interpretazione un tanto da Calvino forse sì. Sì anche inevitabilmente cosa si sceglie di sottolineare poi di riportare in scena quindi è chiaro si poteva pendere più verso una sfumatura o l'altra questa questa profondità del personaggio che nella generalessa appunto si nota particolarmente secondo me secondo noi era un valore arricchente tant'è che Biagio o potremmo dire Calvino lo dice lei fu la prima tra noi che riuscì a comprendere Cosimo e amarlo in questo suo essere diverso ed è anche quella che paradossalmente attraverso il cannocchiale quindi attraverso la distanza ma attraverso uno strumento che permette di esserli vicino è quella che come dire da figura materna forse in controtendenza sente meno la mancanza del figlio che è una cosa meravigliosa della scrittura e del pensiero di Calvino tant'è che alla fine quando i fratelli si ritrovano al capezzale della madre sempre Biagio dice rimasi sorpreso come mia madre parlava a me e a mio fratello come se fossimo entrambi lì al suo capezzale e un'altra cosa interessante cerco di essere breve e di non perdermi tutti gli spunti che sono usciti è appunto rispetto all'identità questo contrasto di forse appunto Calvino è possibile che inevitabilmente da scrittore spostandosi in ogni personaggio e quindi affrontando ogni aspetto diverso dei personaggi che lui ha creato in qualche modo ci racconti anche un po' di sé e inevitabilmente della sua esperienza in questo infatti quando lui parla della questo Simoro che mi ha sempre in qualche modo messo in crisi anche nella messa in scena quando lui dice che la profondità è nascosta in superficie che sembra quasi un rebus da risolvere senza dare la soluzione però attraverso i costumi, attraverso l'atteggiamento dei personaggi è come se lui nello scrivere e noi nel tentare di metterlo in scena è come se nelle sue movenze, nel suo corpo appunto, nella loro identità così sfaccettata in qualche modo già ci dipingesse i personaggi per come sono per poi mostrarci appunto una profondità molto, molto varia è molto interessante quello che dici e anche questo riferimento alla profondità profondità e superficie mi hai fatto pensare alle celeberrime pagine sul tema della leggerezza delle lezioni americane dove appunto la leggerezza è ossimoricamente legata ancora una volta invece a tutta una dimensione, non dico di pesantezza ma ancora di profondità, di complessità quindi ciò che è leggero non è per forza qualcosa cioè non è un disvalore la leggerezza, non è superficialità ma può essere un atteggiamento e un codice interpretativo della realtà o anche perché no di un contesto letterario o di una pagina scritta voglio tornare però a un'altra parola visto che ci sono queste parole scintilla che riverberano dal lato dell'analisi verso il lato del teatro e io sono un po' in mezzo tra voi e cerco di creare appunto un ponte tra le varie fasi della comunicazione tu hai fatto questa bellissima citazione Camilla rispetto all'essere ostinatamente, spietatamente l'ostinazione era quella di prima che comunque mi frullava già all'inizio però ostinazione e spietatezza potrebbero essere veramente due chiavi che fanno appunto da ponte verso la tua riflessione Ronny cioè questa spietatezza nell'essere se stessi è anche una delle chiavi per comprendere Cosimo che più volte avrebbe la possibilità di scendere anche verso la fine della sua vita ma prima tu citavi l'episodio con Viola forse se avesse avuto le chiavi fornite o non fornite da figura materna avrebbe potuto amare Viola, scendere dall'albero e iniziare una vita diversa ma non lo fa e non lo fa in nessun momento questa ostinazione, questa spietatezza sono due chiavi interessanti Ronny, do a te la parola beh, tanto grazie per questo invito i temi naturalmente sono tantissimi è difficile prenderne qualcuno in specifico però i due temi che io in qualche modo ho preso allora parto a questo punto dall'ultimo che Anna ci suggerisce è proprio questo della spietatezza nell'essere veramente se stessi che è più o meno una delle ultime frasi con cui si conclude questo testo essere veramente se stessi è qualcosa di fondamentale che poi secondo la teoria, una delle tante teorie psicoanalitiche è il concetto del vero sé cioè poter essere appunto fino in fondo nella propria identità come persona, come prima ricordava Camilla ma c'è un punto che questo essere completamente se stessi fa sì che il rapporto con l'altro non ammette compromessi cioè bisogna restare come fermi in questa propria posizione puri, candidi, eccetera, eccetera come dice Biagio a proposito di Cosimo quando Cosimo muore fondamentalmente c'è proprio questo aspetto e questo rende per Cosimo la vita estremamente difficile anche se apparentemente soprattutto in tutta la prima parte del testo sembrerebbe esserci una lievità una leggerezza come tu dici ma poi si trasforma in qualche cosa che diventa effettivamente molto problematico tant'è vero che poco prima di questa questione della spietatezza di essere se stessi c'è un'altra domanda c'è una domanda che veniva ripresa appunto da voi ma Cosimo è matto? non si può rispondere a questa domanda o meglio si potrebbe dire che è matto ma non nel senso diagnostico del termine ma forse più bizzarro come è un po' bizzarra la sua storia perché ripeto non entra in compromessi resta corazzato nella sua posizione pur essendo e anche qui emerge a un certo punto del libro più che disponibile ad aiutare gli altri e questo gli viene riconosciuto da una serie di personaggi vari nel corso del libro cioè da una parte ci sono gli spagnoli che con cui lui riesce a mediare anzi addirittura ad aiutarli tantissimo trovando per loro dei compromessi per poter stare sopra gli alberi lì Calvino è geniale perché praticamente gli spagnoli non possono restare a terra è proibito loro questo però possono stare sugli alberi e questo effettivamente dà il senso della della genialità dell'astuzia in qualche modo in qualche modo dell'autore poi Calvino poi appunto Cosimo riesce a dialogare con personaggi straordinari fra cui Napoleone che desidera tantissimo conoscerlo sarebbe un eroe però alla fine non gli viene dato come desidererebbe Biagio lo stemma quindi Biagio resta molto deluso da questo mancato riconoscimento poi c'è la curiosità di Voltaire ma vuole andare in cielo Cosimo quindi ci sono tutti questi passaggi allora io credo che l'aspetto drammatico e tragico di Cosimo è quello ripeto di non potere di non potere mediare in modo elastico tra lo stare sull'albero e il poter scendere ma se fosse così non sarebbe il barone rampante naturalmente però che cosa questo comporta come dramma per Cosimo secondo me due punti sono particolarmente marcati ne parlavamo per l'appunto prima nella conversazione che mi ha avuto tra noi cinque che c'è questo momento struggente del cane di Ottimo Massimo in cui a un certo punto Ottimo Massimo non ne può più di stare sempre a seguire il suo padrone e quasi quasi lo invita a uscire allo scoperto a scendere sul prato ma appunto non ce la fa non può deve restare sull'albero e dolorosamente lascia che il cane in qualche modo se ne vada quindi questo è un primo strappo il secondo strappo riguarda la dimensione la dimensione dell'amore cioè nel senso che lui conosce questa donna viola che è molto disponibile a venire sugli alberi con lui in cui vivono la loro intimità la loro sessualità il loro affetto eccetera ma anche lì Cosimo non è in grado di muoversi e viola va per la sua strada e Parigi Londra eccetera eccetera che è tutto l'opposto dello stare all'interno di questo tutto questo e qui concludo cosa voglio dire che l'inizio della storia di Cosimo quando rifiuta il piatto di Lumache è un atto di ribellione di un ragazzino di 12 anni oggi appunto parlando di adolescenti si direbbe quasi che i 12 anni sono ormai adolescenti mentre ancora prima erano in un'età ancora prepuberale cioè comunque lui fa questo atto sale sugli alberi e da lì si diletta nelle sue avventure eccetera eccetera però io credo che questo inno la libertà diventi la prigionia di se stesso cioè nel senso che lui è dentro le reti di dentro le reti di questi rami per cui non può non può andare via lui si parlava se ne parlava prima potrebbe essere un potenziale rivoluzionario ma se un rivoluzionario resta da solo non compie nessuna rivoluzione resta in qualche modo un atto nichilistico fino a se stesso che gli si conclude e vabbè molto triste la parte secondo me poi chiaramente ci sono tante chiavi emotive di lettura molto triste la parte finale in cui dopo aver potuto andare tra un albero all'altro scopre che dovrebbe mi pare proprio nella parte in cui dovrebbe raggiungere il cimitero ci sono i cipressi e sui cipressi non si può andare e quindi lì si spezza proprio qualche cosa e si entra più in un clima di tipo depressivo mi fermo qua grazie Ronny grazie Camilla grazie Ivana tre tre punti di osservazione un applauso per voi veramente avete aperto tantissime piste interpretative rispetto naturalmente a un'opera letteraria a uno spettacolo teatrale naturalmente chi ha visto lo spettacolo conosce le soluzioni registiche scelte da Riccardo chi ha letto il romanzo ha potuto trovare sicuramente dei nuclei tematici che incontrano appunto le vostre interpretazioni il tema della rivoluzione è una rivoluzione di punto di vista perché lui sale guarda dall'alto vede il mondo dall'alto non tocca terra e non la tocca mai più la rivoluzione è anche la rivoluzione francese ma come si diceva può essere anche la rivoluzione sovietica che proprio in quegli anni Calvino vede scontrarsi con i fatti d'Ungheria Calvino che uscirà dal partito comunista e quindi il tema di una rivoluzione fallita oltre che di un rivoluzionario che si spegne per non aver creato comunità e non essere di fondo non aver accettato di essere forse meno spietatamente se stesso ma più apertamente per gli altri quindi la metafora rivoluzionaria e gli agganci alla storia anche sono molteplici sia nel romanzo e ovviamente anche nello spettacolo io vorrei a questo punto visto che ci restano pochi minuti poi dopo lasceremo anche spazio all'ingresso del pubblico in sala vorrei chiedere al nostro pubblico se ha delle domande delle osservazioni o delle curiosità per il regista che abbiamo qui e quindi possiamo anche sganciarci dalla dimensione psicanalitica e fare delle domande prettamente teatrali a Riccardo oppure ai nostri psicanalisti che appunto si sono prodigati in tutta una serie di osservazioni davvero interessanti che poi daranno vita a una pubblicazione vero giusto per i tipi di mimesis penso che vedrà la luce tra qualche tempo ma che poi avremo sicuramente il piacere di presentare qui al chiostro ecco questo era un riempitivo anche per darvi dono di pensare a qualche domanda e cercare di evitare sempre quei momenti di panico del silenzio posso passare a una domanda? no le passo il microfono perché se no sempre qui non si sente grazie innanzitutto beh la mia domanda non c'entra col barone rampante teatrale però questa il fatto che si dica a tavola vengono alla luce tutti i conflitti le guerre della famiglia faccio un salto pindarico mi ha fatto pensare ai disagi alimentari cioè il cibo diventa il centro da vita una vita sana da vita a fallimenti la tavola che cos'è la tavola e il cibo all'interno di una famiglia e davanti a genitori disattenti sono d'accordo perché se il cibo nel mondo interno dei giovani è buono si mangia volentieri si cresce non si diventa spietati con se stessi viceversa viceversa se il cibo che rappresenta un rapporto con la famiglia in particolare con la madre o con l'immaginario ovviamente che il paziente ha della mamma e del rapporto con la mamma e allora diventa un pericolo e poi siccome siamo nel tema dei fantasmi poi passerò a loro altre opzioni una ragazzina che a tavola non la si vede mangiare denutrita ma ci lenta ci fa vedere i suoi pensieri di morte passo a voi è stata molto questa tavola come dicevamo prima è il trampolino della ribellione di Cosimo però qui abbiamo anche una ragazza di cui non abbiamo parlato che è Battista la sorella di Cosimo che prepara cibo terrificante cioè come lo interpretate questo cibo queste lumache questi coltellini che lei ha e solo lei ha ed è capace come dice Calvino ed è capace di giungere a smembrare fibra per fibra queste pietanze inenarrabili perché a parte le lumache che sono il caso sbelli cucina anche altre cose orribili almeno orribili per i più diciamo poi ci saranno anche gli apprezzi fatti in modo spietato perché vengono decapitate le lumache per poi metterle montandole in un modo molto sadico molto violento e pensavo quando Cosimo salta sull'albero Battista è molto arrabbiata con lui perché lei voleva avere il primato della strana di famiglia e di colpo c'era uno che era più strano di lei e io credo che questo sia molto importante anche per ritornare a collegarmi con quello che si diceva prima della lettura della madre che io invece sono molto d'accordo poi con la lettura che hai fatto tu e non erano in disaccordo le nostre perché io parlavo di una madre più primitiva la mamma di quando i ragazzi erano giovani erano bambini che non ha mai giocato che non li ha mai visti e infatti sono stati due ragazzini non pensati non visti e quindi cosa ci si inventa per non essere guardati dai genitori e quindi la figlia organizza questi banchetti spostando sempre l'asticella più avanti e questi genitori distratti non è che si pongono molto la questione forse anche perché era una figlia femmina che dopo aver dato scandalo viene chiusa reclusa a casa in veste di suora laica mentre forse quando il primo genito il baroncino va sull'albero allora lì si crea una situazione e lì è interessante come il padre non riesce a cogliere questa cosa e invece questo dà l'occasione alla mamma di riscoprire ricreare una relazione differente e infatti questa distanza consente a questa madre che è stata così danneggiata a sua volta precocemente perché ha perso la madre da giovane ed ha vissuto in questa situazione guerresca con il papà in realtà riesce nella distanza a imparare a giocare a giocare col figlio che è quello che facciamo anche noi nelle stanze di analisi con i nostri pazienti a trovare dei modi per rivitalizzare un mondo interno che è un po' congelato e quindi ecco che si sviluppa un rapporto fino a quella scena della morte della mamma che è di una bellezza sconvolgente in cui attraverso la bolla di sapone riescono a darsi quel bacio che non si sono mai riusciti a dare in vita aggiungo una cosa velocissima rispetto a questo che infatti un altro grandissimo tema interessante è la questione della visibilità e dell'invisibilità per l'appunto e non è un caso penso che alla fine del romanzo quando lui ormai è decadente vicino agli ultimi giorni della sua vita come ci racconta Biagio si sposta sull'albero al centro della piazza in modo che possa essere sotto gli occhi di tutti addirittura in scena purtroppo non riuscivamo a hissare un albero sulla scenografia però lui fa salire un albero scusatemi un letto sulla scenografia lui fa salire un letto sul ramo dell'albero e addirittura è il medico che sale anche il fratello e quindi questa cosa della visibilità dell'invisibilità del bisogno in qualche modo di esatto esatto è verissimo e anche in questo c'è il movimento caro a Calvino nel punto di vista ma anche nel punto da cui si è visti volevo aggiungere solo due parole su Battista che a me è molto simpatica allora anche nello spettacolo nonostante le lumache è anche una coloritura molto in fondo dobbiamo chiederci chi sono o cosa sono o cosa rappresentano quelle schifezze che lei prepara le schifezze vengono cioè questa ragazzina ha avuto il torto di essersi avvicinata a un ragazzino che addirittura hanno pensato che lei volesse abusare di questo ragazzino magari sì ma forse stava cercando qualcosa di vitale un abbraccio un po' caldo che forse non ha mai ricevuto allora ogni tanto io pensavo mentre leggevo il libro ma queste lumache saranno i genitori che bisogna affettare un po' è una bella provocazione però forse sì se non i genitori qualcosa di molto vicino a loro Ronnie beh visto che abbiamo parlato di tutti i familiari forse due parole vanno dette date anche a Biagio chi rappresenta Biagio all'interno di questa famiglia credo che lui rappresenti la figura che si dispiace profondamente di dover essere come si suol dire normopatico cioè di dover essere quello che porta avanti la famiglia e e quindi appunto in cui non compaiono stranezze particolari eccetera questo questo fratello che lo serva che lo invita a venire giù eccetera ecco credo che lui rappresenti proprio il fatto di la convenzione sociale in qualche modo il il conformismo prima si parlava appunto si è iniziato con la questione del fantasma no? e associativamente veniva da dire anche perché questa cosa è stata tirata fuori da da regista da fratti che chi lo sa se mi permetto di dire Cosimo perché uso le parole che ha usato lui non fosse una fantasia di biaggio cioè in qualche modo come direbbero gli psicanalisti una specie di compagno segreto gemella immaginario che che gli permette anche di di uscire da questa normopatia insomma un gemello immaginario forse anche colui che scrive la storia forse lo scrittore questa metafora della scrittura questa presenza della letteratura che è così forte nel romanzo ma è forte anche nel tuo spettacolo Riccardo questa piuma che è simbolo di leggerezza ma anche strumento di scrittura che è un segnale molto forte nel tuo lavoro e che è stato ricordo anche l'anno scorso l'oggetto che tu avevi scelto la piuma per rappresentare una dimensione calligrafica di questo di questo testo e anche di questo spettacolo che può essere visto anche come un racconto per immagini corpi parole che scorre non tra le pagine di un libro ma sul palcoscenico io purtroppo devo chiudere qui il nostro incontro perché come vedete il pubblico sta entrando e fra un po' inizieremo noi a disturbare l'accesso del pubblico e loro di converso noi ringrazio Riccardo Frati Ivana Longo Camilla Giraudi e Ronny Giaffè e ringrazio voi vi do appuntamento al prossimo mercoledì 4 ottobre perché proseguiremo con le attività di Oltre la Scena dedicate al Barone Rampante quest'anno non partiamo più nelle nostre discussioni un po' più sempre oblique nell'inquadrare gli spettacoli in scena da un oggetto ma da un testo abbiamo chiesto a tutti i registi alle registi alle compagnie in scena al piccolo teatro gli autori naturalmente delle nostre produzioni di fornirci un testo un testo di partenza un testo che possa consentire una analisi una discussione intorno allo spettacolo ma sempre in termini appunto obliqui Riccardo tu hai scelto una canzone di De Andrè e quindi vi aspettiamo per aprire questo scrigno di lettura che ci riporterà al Barone Rampante a Calvino allo spettacolo soprattutto di Riccardo mercoledì poi vi aspettiamo teatro anche negli altri nostri spettacoli grazie buonasera a tutti a tutti grazie